State ascoltando Campus Wave Campus Wave Per ascoltarci e per conoscere tutte le informazioni sui programmi e gli orari di messa in onda basta collegarsi al sito www.campuswave.it Bentornati su Campus Wave, auguri, auguri, passato un anno ormai e siamo tornati, anzi siamo più forti di prima Questo è Melting Pot, io sono Valeria Oliveri e anche quest'anno Melting Pot vi proporrà tantissimi scontri agguerriti, accattivanti, vorremmo vedere il sangue, non è ancora caduto ma sappiamo che molto probabilmente accadrà quest'anno insomma ci daremo da fare, oggi abbiamo un nuovo scontro, sapete che Melting Pot mette a confronto due modi di vivere due modi di pensare, di concepire la vita e appunto di metterla in atto giorno per giorno e sono piccole cose, sono piccoli modi di fare che però insomma caratterizzano due personalità diverse oggi affrontiamo il tema degli smartphone contro i cellulari antichi, vecchi, insomma quelli tradizionali che tutti noi abbiamo avuto però insomma in quest'ultimo anno ecco tanti l'hanno abbandonato, l'hanno lasciato lì nel cassetto, nel comodino e hanno preferito comprare questo fantomatico smartphone e quindi scopriremo anche che cos'è qui con me, vicino a me abbiamo le due ospiti, Valentina che rappresenta gli smartphone ciao a tutti e poi Deborah che invece rappresenta i cellulari vecchi antichi ciao, buon pomeriggio buon pomeriggio a voi, insomma noi avremo davvero tantissime cose da dire però i nostri ascoltatori sono curiosi insomma tanti sapranno sicuramente che cos'è uno smartphone però io che sono un po' ignorante ecco vorrei sapere da te Valentina visto che lo possiedi che cos'è questo smartphone uno smartphone praticamente è il classico cellulare che tutti noi abbiamo avuto, abbiamo solo con qualcosa in più, la possibilità di navigare gratuitamente scroccando un po' la linea ai vicini oppure la possibilità di scaricare applicazioni, di essere sempre in contatto con gli amici quindi tramite skype, msn, facebook e quant'altro iniziano ad arrivare queste parole un po' strane che non tutti conoscono skype probabilmente sì però applicazioni, wireless, queste parole un po' così insomma difficili anche da spiegare forse ad esempio l'applicazione che cos'è? un programma, un programma ecco un programma che molto probabilmente Deborah invece non ha sul suo cellulare assolutamente no, assolutamente no perché il cellulare antico vecchio tradizionale si caratterizza proprio perché non ha le applicazioni esattamente e quindi qual è la caratteristica vincente del cellulare antico? quello che funziona sempre, è un Highlander e quindi ovunque prende, non importa quale compagnia telefonica uno abbia, la batteria non si scarica dopo mezz'ora perché con tutte queste applicazioni che la mia rivale tanto ama pubblicizza il cellulare dopo due ore ha già scarico eh già perché ha lo schermo molto grande, è infinito direi, ci può guardare i film addirittura esattamente e quindi questo appunto suo favore eh sì, ovvio perché tu ci guardi i film addirittura i film no, però magari hai una puntata magari della tv web o quant'altro e la vuoi mettere poi sul tuo cellulare per rivederla nei momenti di noia sul treno mentre torni e vai in università o quant'altro allora puoi vederlo e quindi insomma è un modo anche per passare il viaggio, ovviamente ci carichi anche la musica sul cellulare certamente mentre invece Deborah ma che bisogno ho della musica quando ho l'MP3 che mi fa la funzione ecco appunto, tu differenzi la tecnologia, il cellulare lo uso per telefonare, l'MP3 lo uso per ascoltare la musica e tutto il resto insomma la tecnologia va differenziata in base all'utilizzo, invece tu vuoi tutto in un unico oggetto esatto, essendo un po' donne di mondo che un giorno devi essere a Milano, l'altro a Genova e poi quant'altro allora ti serve tutto subito tutto subito quindi donna di mondo contro donna sedentaria, si può dire così o no? possiamo dirlo, non è propriamente vero ah quindi proprio un modo di vita diverso certo perché lei è sempre a contatto con il mondo, tu invece non ne senti la necessità io credo che sono io più quella in contatto con il mondo, visto che quando esco non avendo bisogno di tutte queste applicazioni quindi incontra la gente faccia a faccia e non su Facebook quindi questo è un essere socievoli e sociali in un altro modo quindi tu scegli chi incontrare perché tu esci di casa e decidi vado al bar, vado al centro commerciale mentre tu invece hai veramente una schiera infinita di persone con cui puoi chattare, puoi contattare tramite Skype quindi telefonando però forse che non vedi molto fisicamente? beh senza dubbio però comunque ti permette di lavorare anche magari stando a Genova e l'interlocutore a Milano e rendere così un lavoro di squadra che è vincente ecco quindi è il lavoro online, sempre in contatto con tutti, anche con chi non hai vicino proprio per cooperare, ecco perché comunque è una cooperazione quindi questo scontro verrà sviluppato perché le vedo guerrite si stanno trattenendo un pochettino però con il loro cellulare in mano in rappresentanza insomma vedremo cosa succederà nei prossimi minuti ma adesso è tempo di musica io vi ricordo i nostri contatti andate sul nostro sito internet www.campuswave.it e non dimenticatevi il neonato la neonata tv del campus e quindi tv.campuswave.it andate a vedere tutti i video che ci sono perché sono davvero tanti nonché anche questo di Melting Pot della diretta di questo programma adesso la musica Heavy Hopes con The Eyes Down è una e so e so e ok